sappiamo infatti che la legge è spirituale ma io sono carnale venduto schiavo al peccato poiché ciò che faccio io non lo capisco infatti non faccio quello che voglio ma faccio quello che odio ora se faccio quello che non voglio ammetto che la legge è buona allora non sono più io che lo faccio ma è il peccato che abita in me difatti io so che in me cioè nella mia carne non abita alcun bene poiché in me si trova il volere ma il modo di compiere il bene no infatti il bene che voglio non lo faccio ma il male che non voglio quello faccio ora se io faccio ciò che non voglio non sono più io che lo compio ma è il peccato che abita in me mi trovo dunque sotto questa legge quando voglio fare il bene il male si trova in me infatti io mi compiaccio della legge di dio secondo l'uomo interiore ma vedo un'altra legge nelle mie membra che combatte contro la legge della mia mente e mi rende prigioniero della legge del peccato che nelle mie membra me infelice chi mi libererà da questo corpo di morte grazie siano rese a dio per mezzo di gesù cristo nostro signore così dunque io con la mente servo la legge di dio ma con la carne la legge del peccato non c'è dunque più nessuna condanna per quelli che sono in cristo gesù perché la legge dello spirito della vita in cristo gesù mi ha liberato dalla legge del peccato e della morte infatti ciò che era impossibile alla legge perché la carne la rendeva impossibile dio lo ha fatto mandando il proprio figlio in carne simile a carne di peccato e a motivo del peccato ha condannato il peccato nella carne affinché il comandamento della legge fosse adempiuto in noi che camminiamo non secondo la carne ma secondo lo spirito dalla lettera di san paolo apostolo ai romani abbiamo visto un momento di enorme attualità e in sostanza abbiamo ripercorso qualche secolo antecedente la critica della ragion pura della ragion pratica e del giudizio di immanuel kant buon periggio a tutti